Musica La Regione Campania decreta il suo definitivo no alle trivelle. E' stato approvato infatti il collegato alla legge di stabilità che di fatto ferma le trivellazioni petrolifere con una particolare indicazione, cioè nei pressi delle sorgenti idriche. In aula arriva dunque la fiducia e quindi il via alla norma che blocca le perforazioni. Una decisione che dovrebbe bloccare anche le ricerche di petrolio in Alta Irpinia, considerato che le carte indicano come vulnerabili e quindi da salvaguardare quelle zone piene di sorgenti d'acqua. A poche ore dalla giornata dell'acqua dunque il Consiglio decreta l'intoccabilità di una risorsa preziosa, un passaggio legislativo fondamentale. Ancora prudenti però i comitati che ruotano attorno alla tutela delle sorgenti e della natura più in generale. L'azione di Palazzo Santa Lucia infatti non potrebbe bastare a fermare le perforazioni, tenendo conto che la competenza aspetta al governo, che sta attualmente effettuando uno screening sui permessi e sulle zone dove sarà possibile trivellare in Italia. Grazie.